Ciao a tutti ragazzi, stasera vi faccio vedere un'altra partita in cui mi salvo veramente in calcio d'angolo ma solo per tre errori ripetuti dell'avversario Andiamo a vedere il replay Allora, lui parte subito di domatore Eccolo qua Io vado con l'orda di scheletri Lui porta un solo colpo alla torre E poi con gli arcieri comunque evita il danno Dall'altra parte io vado di domatore e subito gli sgherri E questa è una combinazione molto forte E qua lui mette l'orda di sgherri Io a questo punto faccio prima una scarica E in questo modo riesco a buttare giù la prima torre E do anche un bel danno alla torre del re Dall'altra parte lui parte di valchiria e butta subito il barile goblin Io devio la valchiria con la torre inferno e butto di nuovo l'orda di scheletri Adesso lui butta il tronco Quindi vedete quante carte ha per fare un danno immediato Già il tronco, ha le frecce, ha il barile goblin Però vedrete in seguito come fa una serie di scelte sbagliate e ripetute Allora lui parte di arcieri da dietro la corona E io vado di boia A questo punto lui dall'altra parte fa una combinazione molto forte Domatore e sgherri Infatti orda di sgherri Da questa parte io però controattacco sull'altra torre Con i barbari seguiti dal boia E dall'altra parte lui intanto ha buttato giù la mia torre Però io sono ancora in vantaggio di due torri Cioè di una torre Due a uno per me comando E quindi adesso aspettiamo che si ricarica l'elisir Lui adesso va a fare un danno importante all'altra mia torre Buttando prima il barile goblin e poi mettendo gli arcieri in mezzo Io vado col boia che però è un po' lento E parto in controattacco col domatore Guardate adesso Lui ha una torre che ha 39 di danno Lui ha le frecce Eccole qua Prima freccia sprecata perché avrebbe vinto Ma non è finita qua Adesso io attacco Butta il tronco di nuovo a caso Barile goblin di nuovo a caso Arcieri di nuovo a caso Guardate quante carte sta sprecando Ancora Vabbè Questi non tanto E qua Ancora freccia a caso Incredibile E porta a casa la partita Una serie di errori ripetuti Ma veramente giocata malissimo dall'avversario questa partita Una partita persa in partenza E niente Vi volevo far vedere questa partita davvero incredibile E io sto aspettando tra 11 ore Che mi si apra il Il baule epico Poi magari lo apriamo insieme Anche se Non so Vediamo A presto No Grazie.